Buongiorno e bentrovati. Buon martedì 25 aprile, festa di San Marco Evangelista. Giovanni, soprannominato Marco, era cugino di Barnaba. Nella casa di sua madre Maria, la comunità cristiana si accoglieva spesso in preghiera ed era raccolta in preghiera anche nel giorno in cui Pietro venne liberato dal carcere e poi dovete scappare da Gerusalemme. Marco fu compagno di Paolo e di Barnaba nel primo viaggio apostolico ma si tirò indietro a causa delle difficoltà e quando poi Paolo e Barnaba volevano ripartire per il secondo viaggio, discussero per prenderlo con sé oppure no e alla fine si divisero e Marco accompagnò Barnaba nel viaggio apostolico e evangelizzò l'isola di Cipolo. In seguito però si riconciliò con Paolo e tornò a collaborare con l'Apostolo che lo stimò molto e lo definì molto utile nel ministero. Fu aiuto di aiuto e riconforta Paolo nella prigionia. Inoltre fu discepolo e collaboratore il suo mandato di Pietro fu il suo traduttore e ne riprodusse la predicazione nella tesura del suo Vangelo, il Vangelo di San Marco. Come dice la tradizione, il suo mandato di Pietro Marco fondò la chiesa di Alessandria d'Egitto e sigillò con il sangue la sua missione, morendo martire e il suo corpo venne poi portato nel IX secolo da Alessandria d'Egitto a San Marco ed è venerata a Venezia nella Basilica di San Marco, eretta in suo onore. Ecco il Vangelo di oggi, lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disiniò altri 1772 e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro, la messe è abbondante ma gli operai sono pochi, pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe? Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa né sandali né sacca e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro, è vicino a voi il Regno di Dio. Parola del Signore. Annunciare il Regno di Dio. Questa è la missione dei discepoli di Cristo. Questo fece San Marco. Annunciò il Regno. Ma il Vangelo di oggi ci istruisce sulla necessità della preghiera per le evocazioni. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Preghiamo con intensità il Signore, perché mandi ancora operai nella sua messe. Ne abbiamo tanto bisogno. Preghiamo il Signore perché mandi sacerdoti, perché mandi religiosi, perché mandi religiose, perché mandi diaconi, perché mandi persone che scelgano di donare tutta la vita al servizio di Cristo, al servizio della sua Chiesa, per diffondere il Vangelo. Preghiamo. Preghiamo per le evocazioni. Perché quando sono chiamati non abbiano paura, ma seguano con gioia al Signore, col desiderio di annunciare il Regno di Dio e di servire il Popolo di Dio, amando la Chiesa. Buona giornata. San Marco prega per noi.